la stella più importante per Riccardo Zampagna ha preso un volo da molto lontano abbiamo saputo proprio era un grande piacere venire qua no senz'altro poi Riccardo ha un bel rapporto sono passato già otto anni che abbiamo giocato assieme perciò ho detto a lui che anche se doveva arrivare un attimino irritato che ci veniva perché ci contavo perciò sono qua sono felice di essere qua e fare questa partita che secondo me poteva giocare ancora però lui è un noter star che deve fare avrebbe meritato qualcosa in più come valore ha fatto un'ottima carriera però avrebbe fatto qualcosa certo quello sì quella è l'unica cosa che penso che neanche lui ci pensa poi se ci penserà è quello è stato un giocatore anche se non ha giocato in una grandissima squadra ha fatto delle belle cose dei bel gol e mi ricordo tante cose quando abbiamo giocato assieme perciò è stato per me un grandissimo giocatore ti piacerebbe avere una festa così quando lasciare il calcio di ancora tantissimo da dare tra dieci anni magari tra dieci anni grazie va bene ciao ciao